Il sogno di ogni pilota si chiama Formula 1 e sono davvero in pochi i migliori a poter dire di averlo raggiunto. Ancormeno sono quelli che riescono a salire a bordo di una vettura da corsa in giovane età e proprio per questo la terra bergamasca sarà doppiamente fiera della sua giovane promessa, anzi ormai certezza, che porta il nome di Kevin Cechon. A soli 18 anni, un mese e 11 giorni, il neocampione della categoria AutoGP sarà di scena da Abu Dhabi con la scuderia Toro Rosso, per i test del 15, 16 e 17 novembre in programma subito dopo il Gran Premio degli Emirati Arabi. Un'occasione unica e importantissima per Cechon, che avrà a sua disposizione per una giornata e mezzo, la STR6 con la quale potrà assimilare tutte le procedure e la gestione dei complessi sistemi di una Formula 1 odierna. Il suo obiettivo sarà così incamerare più esperienza possibile, naturalmente facendo di tutto per benfigurare in questa prestigiosa vetrina internazionale e dare così l'ennesima e la più grande svolta alla sua carriera automobilistica. La comprensibile gioia del pilota aerobico, la notizia della convocazione, se possibile, è però ancora maggiore considerando che il record, sinora mantenuto da Sebastian Vettel, salito per la prima volta su una Williams a 18 anni e due mesi, sta per essere battuto. Tra due settimane tutto il tifo e il sostegno degli appassionati dei motori bergamaschi sarà quindi per lui che vince con chi ad Abu Dhabi avrà la possibilità di vivere un'esperienza che per la maggior parte di noi resta un sogno, la Formula 1.